Ciao ragazzi, salve tutti i metori del mio canale, io sono Dragangest e oggi 30 dicembre 2022 andiamo a vedere cosa c'è di disponibile nei costi oggetti di Fortnite Oggi abbiamo tutti i preferiti del 2022 con Sid, poi Medli, scendiamo e abbiamo Gekko Assassino e quindi Tormento Immortale, Sguardo Sinistro, Nascosto e quindi Halli e Lila e ancora una volta Regina di Cuori e Desdemona ragazzi finiti i preferiti del 2022 abbiamo tutta la squadra Origini con gli stili di tutte le stagioni del capitolo 1 che già conosciamo abbondantemente, poi in evidenza abbiamo Isabelle, Bubusette, Notte e Notte e poi ancora Fionda, Domino, Malevolenza e quindi ancora una volta il bando all'assassino vulcanico e sabbie immortali con tempesta di sabbia scimitarra, scendiamo, abbiamo Testa d'Aria, Sergente decorato e l'emo Tutsi Turbine spazza via la polvere e finito ragazzi con tutti i bundle che già avevamo visto precedentemente fino ad arrivare giù ai bundle offerte speciali della Epic quindi tutti gli altri bundle della Marvel ragazzi sono andati via benissimo ragazzi, io prima di tornare su mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete il video con gli amici lasciate un mega vi piace, andiamo subito a vedere il bundle orsettuffolo eccola qui ragazzi la nostra bellissima seed con più stili selezionabili lo stile sul cappuccio, giù il cappuccio e il nuovo stile ragazzi alla menta eccola qui sul cappuccio, giù il cappuccio bella 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 ragazzi, anche alla menta, stupenda poi abbiamo il suo dorso decorativo, orsettino coccoloso ragazzi è reattivo, stupenda questa cosa e poi lo strumento di raccolta, punginocche pesanti e la copertura ondata di cuori, 1700 V-Bug per questo bundle stupendo, bellissimo, simpaticissimo poi possiamo prendere seed da sola a 1200 punginocche pesanti a 800, ondata di cuori a 300 abbiamo poi il bundle occhio al surf prendendo tutto quanto ragazzi in bundle abbiamo un risparmio di 700 V-Bug andiamo subito a vedere gli stili in anteprima di Medli bellissima ragazzi, colore Medli poi immersione e quindi freestyle e ancora una volta delfino occhialoni, si, occhialoni, no bella 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 ragazzi qui ci sono più stili quindi è molto bella perché si può cambiare più stili quindi sembrano delle skin diverse comunque, ali acquatiche e il suo dorso decorativo strumento di raccolta Ascia Remo anch'esso con più stili selezionabili Ascia Remo e coppia di Pagaie bella 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 e poi la copertura Surf Selvaggio 1800 V-Bug ragazzi per questo bundle le ali acquatiche si dispiegano con le eliminazioni qui stiamo parlando del dorso decorativo ragazzi bello 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 ragazzi è un bundle simpatico molto simpatico poi possiamo prendere Medli da solo a 1200 le Ascia Remo a 800 e Surf Selvaggio a 500 scendiamo e abbiamo Gekko Assassino ragazzi stupendo capitolo 3 stagione 4 800 V-Bug per questa skin da killer 800 V-Bug ragazzi la mettiamo nell'armadietto scetto screletrico strumento di raccolta non comune 500 V-Bug è la parte diciamo tetra di Bacchetta Stella torniamo indietro quindi abbiamo il bundle l'assaggio di paura tormento immortale eccola qui ragazzi stupenda capitolo 3 stagione 4 il defunto irrequieto e ha quindi il suo dorso decorativo ossa vuote a modi ali squadro sinistro il costume raro ragazzi stupendo fa parte del set mano malevola e quindi presa oscura il suo dorso decorativo andiamo a vedere subito la schermata di caricamento gli incubi prendono vita bello 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 ragazzi andiamo a vedere quant'è il costo 1600 V-Bug ragazzi per questo bundle non ricordavo il prezzo da me già in possesso ragazzi le skin in game sono fenomenali stupende bundle l'attrezzatura da incubo e quindi abbiamo l'occhio che tutto vede come strumento di raccolta lo strumento di raccolta ancora fine dei giochi e la copertura sinistro fobia 1200 V-Bug ragazzi per questo bundle poi possiamo prendere tutto in modo singolo scendiamo nei preferiti abbiamo ancora nascosto ragazzi anche questo qui bellissimo come stile colore predefinito e il bianco 800 V-Bug e da me già in possesso e io ve lo consiglio mazza nero bianca è il suo strumento di raccolta da 500 V-Bug capito 3 stagione 1 il set è nero e bianco ragazzi stupendo spettacolare poi abbiamo il bundle migliori amici bello 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 con Haleigh e il suo dorso decorativo occhi di gatto e quindi lo strumento di raccolta la zanna da metista la copertura zampetta bella 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 reattiva ragazzi e poi Lila stupenda ragazzi il suo dorso decorativo saltella è pronto e la schermata di caricamento migliori amici 2.200 V-Bug ragazzi per metterci tutto questo bundle nel nostro armadietto abbiamo Haleigh a 1.2 Lila a 1.2 da sola la zanna da metista 800 e zampetta 500 scendiamo e ancora nei preferiti troviamo regina di cuori bellissima ci sto facendo un pensierino oggi regina di cuori capitolo 3 stagione 1 royal flash costume regina di cuori e il suo dorso decorativo mano di cuori 1200 V-Bug ragazzi ed è nostra mazza di cuori e lo strumento di raccolta non comune 500 V-Bug e la mettiamo nell'armadietto ragazzi bella bello bello ancora una volta cuore regale e la copertura non comune da 300 V-Bug poi abbiamo la stupenda stupendissima desdemona da me già in possesso sono innamoratissimo di questa skin ragazzi poi dorso decorativo oculara e quindi il suo strumento di raccolta furia sino ad arrivare alla copertura lume stellare e poi la bellissima schermata di caricamento inchiostro infernale ragazzi che io l'ho messa come desktop bella 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 ragazzi andiamo a vedere il costo che non me lo ricordo 1800 V-Bug ragazzi per questo bundle possiamo poi prendere desdemona da sola furia da solo lo strumento di raccolta e anche lume stellare la copertura in modo singolo poi abbiamo la squadra dell'origine e lo stile di tutte le stagioni del capitolo 1 intanto andiamo a vedere il dorso decorativo per ogni stagione quindi ombrello prime drago dub e quindi pericolo polveroso vittoria del visitatore deriva mascherato il cubo dorso decorativo dei ghiacci banana nana neo futuro e memoria x bella 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 ragazzi 400 V-Bug e questi dorso decorativo sono nostri prendiamo poi 1 leader fortunata ragazzi qui possiamo andare a cambiare gli stili in anteprima del capitolo 1 stagione 1 capitolo 1 stagione 2 capitolo 1 stagione 3 capitolo 1 stagione 4 capitolo 1 stagione 5 capitolo 1 stagione 6 capitolo 1 stagione 7 e capitolo 1 stagione 8 e quindi capitolo 1 stagione 9 per finire capitolo 1 stagione 10 bella 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 ragazzi 1200 V-Bug e questo può avvenire per tutte le skin che avete in questo momento sotto gli occhi sia per la parte femminile che per la parte maschile scendiamo e abbiamo i bundle 2800 V-Bug più una schermata di caricamento e il bundle antichi avventurieri 2800 V-Bug più la loro schermata di caricamento scendiamo in evidenza abbiamo Isabelle da 1500 V-Bug con più stili selezionabili il colore Isabelle e principali veleni bella 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 poi abbiamo il libro degli incantesimi volume 3 con più stili selezionabili il predefinito e lo scuro ragazzi bello 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 poi la sua emote integrata extra collico l'armatura ragazzi stupenda dove si trasforma 1500 V-Bug ragazzi per questa skin bastone dell'astromastro 800 V-Bug ed è il nostro BB7 da 1500 V-Bug con più stili selezionabili inquietante inquietantissimo e sbirciatina il suo dorso decorativo palloncino della battaglia notte notte anche esso con più stili selezionabili inquietante inquietantissimo e terrore della notte il suo dorso decorativo lama palloncino 1500 V-Bug ed è il nostro raccogli squick lo strumento di raccolta da 1500 V-Bug della stagione 3 fionda 800 V-Bug stagione 10 corridore reale il set di cui fa parte ragazzi con più stili selezionabili fionda e pilota mercurio bella 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 800 V-Bug ed è il nostro giro della vittoria 500 V-Bug per questo strumento di raccolta bello 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 domino eccolo qui i diabolici capitolo 2 stagione 1 il suo dorso decorativo sigillo della fiamma 1500 V-Bug ed è il nostro bestia bruciante 1500 V-Bug per questo deltaplano leggendario poi abbiamo lame infuocate lo strumento di raccolta da 800 V-Bug eccolo qui e quindi malevolenza la bellissima skin leggendaria da 2000 V-Bug e le sue ali malevoli come dorso decorativo ascia di fuoco e lo strumento di raccolta da 1200 V-Bug della stagione 8 glifo infuocato la copertura rara da 500 V-Bug animata scendiamo e abbiamo il bando l'assassino vulcanico con complex tettonico il dorso decorativo ritmo ardente e ancora una volta strumento di raccolta lucentezza stradale sul furea e la copertura flow e fiamme 1600 V-Bug se non ricordo male sì 1600 V-Bug ragazzi ce la mettiamo nell'armadietto sabbiei bundle sabbiei immortali stile maschera senza maschera e cappuccio il nome della skin era tempesta di sabbia me l'ero dimenticato scimitarra ragazzi anche se sono più stili selezionabili maschera senza maschera e senza maschera e cappuccio la scia chronos e quindi la copertura emblema 2000 V-Bug del nostro possiamo poi prendere tutto in modo singolo scendiamo e abbiamo testa d'aria 1200 V-Bug per questa skin della stagione 9 sergente decorato 1200 V-Bug per questa skin della stagione 2 tootsie l'emote da 500 V-Bug turbine l'emote da 500 V-Bug della stagione 7 spazza via la polvere emote da 200 V-Bug e quindi la musica sotto il fuggio da 200 V-Bug ragazzi scendiamo sino ad arrivare ai bundle della Epic non c'è nessuna altra novità io ritorno in lobby qui vi saluto mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella condividete il video con gli amici e lasciate un mega mi piace ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao